L'epistemologia arriva alla verità assoluta. Dobbiamo partire dal terzo principio della dinamica, azione e reazione. Esiste in via interattiva, attraverso più uno moltiplicato per meno uno, l'interazione è meno uno. Difatti dire sì al no oppure no al sì è sempre il risultato negativo. La verità assoluta è quella che ricorre a una coppia di valori opposti, tali che la loro somma è il numero zero. Questa è la fotografia del nostro mondo binario, che è basato su ogni possibile contraddizione, come nella realtà fisica, così in quella dello spirito e della morale. La verità assoluta, di conseguenza, è che la prima azione rappresentata dalla interazione tra l'azione e la reazione, è una esistenza devolutiva. Significa il ritorno al passato, attraverso la via dell'antimateria, il magnetismo e, in genere, ogni aspetto negativo. ciò capovolge letteralmente ogni fede nell'evoluzione, come se fosse la verità. La verità invece è che più uno moltiplicato per meno uno fa meno uno. Noi stiamo percependo ciò che è uguale ma contrario a questa evidente verità. Noi siamo confusi dall'osservazione maligna di ciò che è uguale ma contrario. La via per confonderci è messa in azione attraverso gli antagonisti, la materia, il movimento elettrico e in genere ogni aspetto positivo. L'azione piena dell'esistenza in pura potenza e quella dell'essere in atto è il sistema integrale tra l'esistere e non esistere. Noi abbiamo tutte le possibilità dell'esistenza, divisa per stringhe verticali di ordini binari, come tutte le possibilità di un DVD al cinema e di tutte le vite possibili, quelle umane e animali. La nostra vita è come un virus che ha la capacità di trasformare una stringa di ordini in modo che l'esistenza binaria della stringa assume le forme date dal software della mente dell'osservatore. Così la stringa ad esempio 1010011 avanza verso l'osservatore e assume la forma del nostro mondo reale, nello stesso modo in cui il DVD è trasformato divenendo un film nel quale sono rappresentati 1 la massa, 2 il tempo, 3 lo spazio, 4 il flusso reale, 5 il flusso termico, 6 il flusso molecolare, 7 il flusso dell'unità dell'intensità della luce. Questi 7 sono le unità del sistema internazionale che i francesi dell'accademia costrinsero a seguire sulla farsa riga del ciclo decimale e sono realmente esistenti in questo ciclo a causa del ciclo 10 che rappresenta l'azione ciclica del nostro virus. Ogni virus è un ciclo invasivo attraverso il suo software e il nostro è basato sul ciclo 10. Attraverso questi dieci numeri, come attraverso il ricorso all'arbitro assoluto di ogni cosa, è derivato l'infinito universo che afferma la sua percezione unitaria attraverso il rapporto 9 a 1 che è interno al 10. La divisione dell'assoluto 10 nella forma unitaria del rapporto unitario 9 a 1 ottiene questa importante conseguenza. Il risultato 1,11111, la presenza decimale infinita, sempre il decimo di tutti i cicli di dieci decimi precedenti. Mentre questo è l'avvenimento nella profondità del tempo, noi abbiamo nel fronte l'immagine di un piano nel quale accadono forme di divenire. 3x3 diventa 33x33 e poi 333x333 e nel terzo tempo questo della divisione di 10 diviso 9. Il divenire è il risultato che appare al cinema ed è solo un effetto apparente della cinematica, ma l'introduzione eterna di un decimo è la causa sia della libera accelerazione di tutte le masse libere, ma anche della visione che è chiamata frattale. Il nostro mondo che sembra nel suo reale divenire è solo l'immagine di un film frattale che il nostro spirito genera per farsi una ragione del suo ciclo e della stringa di dati binari in cui egli si ritrova avendolo ricevuto dal destino. Di fatti il nostro spirito non è il primo ad esistere, ma la sua visione e interpretazione viene dopo la stringa del DVD e della sua vita che è costruita con il ciclo 10 del suo programma da virus. Ma laddove 1 e 0 sono i numeri di questo DVD, il 10 è il link tra di loro, tra 1 e 0, ed è l'anima di ogni cosa. 10 è proprio l'anima di tutto e vale come Dio. 1 e 0 è la divisione che, mixata in ogni modo possibile, crea il sistema infinito di tutte le possibilità e rende infinita e assoluta la sua stessa quantità del ciclo 10. Di fatti il nostro mondo è fatto da quanti, come spiegò Mark Planck. Il ciclo 10 è un vero e proprio Dio di giustizia. Il suo essere 3, come i parametri X, Y e Z, componenti distinte e uguali del volume, e il suo essere 1, come tutto il volume che è fatto dall'interazione tra le tre componenti, è trino e uno. 3 a 1 è l'unità e trinità del nostro volume, simile al Dio proprio uno e trino affermato da Gesù Cristo, come la verità fondamentale che noi possiamo chiamare Dio. Bene, la Trinità, operando per interazione su ogni cosa, è il suo pieno volume, è 10 come un vero e proprio Dio di giustizia, applicando questo calcolo. 3 diviso 3 più 3 moltiplicato per 3.